All'inizio di maggio del 1978 degli agenti del Sismi, servizio segreto militare, si recano in via Caetani. Vanno a bussare al grande portone del palazzo che dà il nome alla strada, Palazzo Caetani. Stanno per entrare, ma arriva un controordine, devono rientrare. Cosa cercavano questi agenti segreti in quel palazzo? E come mai proprio lì davanti, pochi giorni dopo, si sarebbe rinvenuto il corpo dell'onorevole Molo nel cofano della Reno Rossa? Siamo di fronte a uno dei casi più complessi e drammatici della storia del Novecento, il caso Molo. Il caso Molo è veramente un enigma, ancora oggi a 45 anni di distanza dai fatti. Dopo sono celebrati cinque processi, dopo che è stata istituita una commissione parlamentare di inchiesta. Tuttavia, la vicenda Molo è veramente molto più difficile da leggere. Viene data di solito la chiave di lettura più banale, più scondata. È stato ucciso da quei pazzi delle Brigate Rosse. Questa versione dei fatti, la versione ufficiale, è stata praticamente divulgata attraverso il memoriale Morucci Faranda, che è stato poi quello scelto per darlo in pasto poi all'opinione pubblica e al mondo intero. Ha vallato, peraltro, da Cossiga. Ma dietro invece, dietro la morte di Moro, c'è veramente un intrigo internazionale di portata colossale che si svolse a Roma in quei drammatici giorni, fu una data che cambiò poi la nostra storia, poi cambiò la storia del nostro paese. Forse quel giorno davvero morì definitivamente la Repubblica Italiana, morì ogni tentativo di attuare la Costituzione. In ogni caso, una delle figure chiave di questa complessa vicenda, una delle figure che possono consentire di tentare un'interpretazione di questa vicenda, è senz'altro un personaggio straordinario, un personaggio incredibile, un personaggio veramente al di sopra di qualunque sospetto. Stiamo parlando di una persona che abitava proprio al Palazzo Caetani e che era forse lui l'uomo che stavano cercando gli uomini dei servizi segreti militari. Si tratta del maestro Igor Markievich. Igor Markievich, uno dei più grandi direttori d'orchestra del Novecento. Un maestro della musica mondiale. Cosa diavolo può mai centrare? Un grande della musica del Novecento con un delitto terribile, come il delitto moro. Andiamo indetto nel tempo per cercare di capire qualcosa, di capirci qualcosa. Nikol Markievich era nato a Kiev, da una importante famiglia, nell'ex Unione Sovietica, in un'epoca l'Ucraina, era ancora a Kiev, capitale dell'Ucraina, ancora nell'Unione Sovietica, studia in Svizzera, poi si stabilisce a Parigi. A Parigi comincia a frequentare i salotti più brillanti. Per esempio il salotto di Jean Cocteau è la stessa Parigi di Picasso, quella che poi troveremo nella recherche di Proust, ancora presente in quell'epoca. la Parigi frequentata da Trotsky, da Modigliani, la Parigi che è meta dei più grandi pensatori del mondo, la seconda casa di ogni uomo, dirà Picasso, la città dove un artista si realizza, dove è la mecca degli artisti. E lì Markievich incontra una donna importante nella sua vita, la figlia del più grande ballerino russo di quei tempi, Nizischi. Sposa questa ragazza e conduce questa esistenza adorata nella Parigi Belle Epoque. Finirà questa relazione e sempre a Parigi incontra una nobile donna italiana che si era trasferita lì, l'ampolla di una delle più grandi famiglie aristocratiche d'Europa. Topazia Caetani si sposerà poi con Topazia Caetani e andrà a vivere in Italia. La coppia si trasferirà a Firenze, il maestro Markievich dirigerà anche il maggio musicale fiorentino, si stabilisce a Firenze. A Firenze verrà ospitato in una villa del Rinascimento di proprietà di un altro e altro esponente del gota culturale mondiale, Berenson, Simone Berenson, uno dei più grandi critici dell'arte della storia, accademico di Harvard, innamorato del Rinascimento, che aveva cobrato questa villa rinascimentale a Firenze dove lui abitava e anche lì quella via, anche lì tutto il gran mondo, sia della cultura, ma anche della politica, del potere, troverà uno, un templio, un cenacolo, un luogo in cui celebrare i propri riti, i propri incontri. Lo stesso mondo cosmopolita dei più alti livelli mondiali che aveva incontrato a Parigi, il maestro Markievich lo incontrera a Firenze nella villa di Berenson. E lì a Firenze abita anche la cugina di Topazia, Lelia, anche Elsa, una Caetani. I Caetani a Firenze, quindi due donne, due bellissime donne esponenti dalla famiglia Caetani sono lì a Firenze, l'una sappiamo sposata con Igor Markievich l'altra sposerà un altro personaggio di rilievo straordinario. Hubert Howard, un generale del Regno Unito, agente dell'MSX, del servizio segreto di sua maestà, presente lì a Firenze, imbarentato Howard con la famiglia Windsor, con la casa reale inglese, quindi, e con i duchi di Norfolk, quindi la più alta aristocrazia britannica. Quindi, Markievich e Howard diventeranno sostanzialmente dei cugini, intanto saranno grandi amici e si renderanno protagonisti di una delle più delle imprese più eroiche, più importanti del secolo, cioè salveranno Firenze dalla distruzione. Infatti, i comandi nazi avevano capito, avevano saputo, tramite Berenson e tramite fonti di intelligenza, che i nazisti stavano per attaccare Firenze con l'intenzione di distruggerle, e saranno proprio Howard e Markievich a salvare la città, trattando direttamente con il capo delle forze naziste della Toscana. Quindi salveranno un patrimonio dell'umanità che tuttora quindi noi possiamo ammirare grazie a loro. Successivamente Howard si mangerà in un'altra impresa, cioè recuperare alla fruizione uno dei luoghi più belli del mondo, l'oasi di Ninfa, appartenente proprio alla famiglia Caetani. I Caetani quindi questa grande famiglia romana che aveva molti papi in famiglia tra l'altro oltre a intellettuali uomini del potere politico, questa grande famiglia era proprietaria pure della tutta la zona attorno al Sermoneta Cisterna di Latina. In questa zona vi è una città medievale abbandonata, la città di Ninfa. questa città nel Medioevo viene abbandonata a causa di malattie, dalla malaria, dei corsi d'acqua di vicini che però nei secoli invaderanno poi la ex città e creeranno una sintesi straordinaria tra vecchi ruderi, chiese medievali, palazzi e case medievali, acque e una vegetazione particolare che si acclimaterà in quel luogo e Howard la trasformerà in un'oasi. In realtà fu proprio il padre di Lelia con Caetani a iniziare i lavori. Howard vi si dedica anima e corpo, vi si stabilisce e nell'oasi di Ninva affiderà l'oasi di Ninva dapprima al WWF successivamente fonderà insieme a Benedetto Croce ad Elena Croce Italia Nostra che gestirà poi l'oasi. L'oasi di Ninva in ogni caso questo che poi verrà definito dalla rivista Forbes il più bel giardino del mondo effettivamente uno dei luoghi più belli del mondo c'è poco da fare è vero basta vedere immagini anche una ricerca banale su internet questo luogo diventerà anche sede di incontri ai più alti livelli della cultura della politica mondiale quindi vi vedremo i presidenti americani vi vedremo l'annunzio lo stesso Andreotti il gota insomma il gota che continuava a ruotare attorno a questa famiglia questa famiglia quindi che inizia la sua la sua frequentazione del gota mondiale a Parigi si continua a Firenze nella villa in Berenson e continuerà poi nell'oasi di Ninva dove ci sarà appunto poi una residenza adebita agli incontri questo è un luogo amato quindi poi dai poeti dai intellettuali insomma veramente un luogo incantato fuori dal tempo e dallo spazio si dà il caso che gli agenti del sismi di cui parlavamo all'inizio prima di andare a Palazzo Caetani erano andati a Ninva e lì trovarono il vecchio Howard forse sarà stato lui a intervenire per fermare la eventuale perquisizione degli agenti nel Palazzo Caetani a Roma non lo sapremo mai cosa cercavano anche lì a Ninva e a Palazzo Caetani forse cercavano il corpo dell'onorevole Moro poi cercavano l'onorevole Moro che è ancora il presidente Moro non ancora non era ancora stato ucciso quindi probabilmente se era probabilmente era ancora vivo molto con ogni probabilità venne ucciso poi la mattina del 9 maggio 78 quindi doveva trovarsi probabilmente secondo gli agenti è proprio lì ma chi aveva informato gli agenti che l'onorevole si trovava o a Ninvo o a Palazzo Caetani pare sia stato il Mossad il servizio segreto israeliano che aveva deciso di intervenire a favore della salvezza dell'onorevole Moro ma sempre la domanda l'interrogativo ma perché un grande direttore d'orchestra come Marchevici perché anche un uomo come Howard comunque un bene merito gente che aveva salvato Firenze che aveva dato origine aveva lanciato nel mondo un luogo ingandato come Ninfo ma gente così perché doveva avere a che fare con il caso Moro è una domanda che a cui ancora non vi sono date grandi risposte ci sono delle comunque delle ipotesi può darsi che nella loro frequentazione dell'altra società mondiale questi personaggi erano entrati in contatto con ambienti dei servizi segreti delle nazioni più potenti e in effetti se vediamo per esempio poniamo una lente di ingrandimento sulla vicenda di Marchevici notiamo che effettivamente lui aveva legame con l'estero e con l'orchestro con l'urse aveva legami con gli Stati Uniti aveva legami con il Mossad aveva legami con i nostri servizi interni italiani può darsi che sia accaduto che sia reso necessario quindi un suo intervento perché perché ormai le varie indagini le varie commissioni hanno stabilito che il delitto Moro si può dividere in due fasi quando scatta la seconda fase entra in gioco altre forze probabilmente l'onorevole Moro viene affidato ad altri non più alle BR verranno ritrovati nel corpo dell'onorevole anche nei vestiti per esempio dei filamenti di lana filamenti di lana che sono riconducibili a dei depositi di lana che sono in uso da commercianti giudaici nel ghetto di Roma quindi si può immaginare che Moro sia stato portato lì e anche resti di terriccio del territorio di Velletri o comunque di territori laziali quindi la versione quella di comodo ufficiale dicevamo il reale Morucci Faranda che vedeva Moro chiuso per 55 giorni in uno stanzino che poi abbiamo visto la foto famosa di Moro con lo stemma delle brigate rosse dietro col giornale che poi vedremo poi nei film sul caso Moro quindi un Moro chiuso in via Mondaccini per 55 giorni non è veritiero l'hanno portato anche altrove e probabilmente l'hanno portato poi anche a Palazzo Caetani dove pare esistessero anche delle stanze segrete usate ai tempi della guerra per nascondere degli ebrei dalla persecuzione nazista e quindi entrano nella seconda fase del sequestro Moro e entrono in gioco delle forze entrono in gioco tanti attori troviamo quindi dicevamo i vari servizi segreti di mezzo mondo che paradossalmente poi avranno sede proprio tutti si scopriranno sede proprio in zona via Caetani in quel quadrilatero una concentrazione altissima senza fare al mondo entreranno in scena vari esponenti della politica del mondo dell'intelligence dicevamo ma anche il Vaticano poi entra l'anno in scena gli esecutori la manovalanza quindi le BR Cosa Nostra anche la Brancheta c'è la loggia Pilue c'è l'inviato di Kissinger al ministero degli interni ci sono tantissimi attori e solo una persona poteva dirigere tutte queste voci tutti questi strumenti solo un direttore dell'orchestra poteva farlo e sarà proprio per questo che hanno scelto il più grande il più geniale di tutti il maestro Igor Markievich il quale poi negli ultimi anni si ritirerà a vita privata colpito dalla sordità una malattia più terribile per stessa sorte di Beethoven sostanzialmente una malattia più terribile per un musicista sarà lui che Fellini si ispirerà per un suo film Prova d'orchestra e questo grande personaggio del Novecento con i suoi tanti volti sui tanti risvolti sui tante contraddizioni se ne andrà da questo mondo portandosi dietro questa storia incredibile in cui si intrecciano la bellezza la morte in cui si intrecciano l'intrigo la grande arte la grande il grande potere il grande genio e comunque c'è poi si conclude tutto con l'immagine terrificante dell'onorevole Moro colui che è il più grande statista forse dell'Italia repubblicana più buttato lì nel diranno sarà ucciso nel garage c'è da Moretti ma in realtà chissà e comunque si veda nel cofano dell'arena 4 Marchettic comunque lascerà un libro di memoria e in esse parlerà poi stranamente non sarà ovviamente parlerà un messaggio in codice ma dirà tante cose dirà fra l'altro parlerà stranamente e poi alla fine proprio del grande vecchio forse il grande vecchio non è mai esistito forse egli sarà stato solo un misterioso intermediario come poi lo definirà presidente della commissione stragi di pellegrino in ogni caso si concluderà poi questo suo libro di memoria proprio con questa immagine il grande vecchio ammesso dirà lui che si voglia davvero credere e lui